Siamo con Andrea Salventi su questo parco! Allora, ce l'abbiamo fatta! Ecco, nonostante la pioggia! Un pochino di pioggia, che porta bene, che porta bene! Dunque, questa è la tempra del popolo napoletano! Napoli, grazie, noi torneremo presto! Certo, certo, voglio tornare presto a Napoli! Però voglio dire anche una cosa, stasera abbiamo ascoltato tantissima bella musica, vero? Anche perché io di musica me ne intendo, eh! Ah, è vero! Guarda che io c'avevo là... Ti abbiamo preso per questo! Ti hai visto! Io avevo l'autoradio, ancora prima di avere la macchina, non per vantarmi, eh, ragazzi! Però, siccome abbiamo ascoltato tantissima bella musica, e facciamo fatica a ricordarcela tutta, capito? Adesso, per fare un riassunto, Salvetti ci canterà tutte le canzoni che avete sentito stasera, solo dei pezzettini, e tutte le canzoni delle 42 edizioni precedenti, va bene, solo il ritornello, vabbè? Decideremo di inferno, così! Ci vorrà giusto una settimana, che è quella che serve per arrivare alla prossima puntata, che sarà a... Trieste! Ciao Napoli! Ciao Napoli! Ciao Napoli! Ciao Napoli! Ciao Napoli! Prossima settimana saremo a Trieste! Ciao! Grazie! Grazie! Ciao Napoli!